Buonasera Plescia, iniziamo con Francesco Scerto, corner. Ciao Vincenzo, buonasera. Ho scritto nel mio pezzo, non per farti arrabbiare, 122 giorni dopo, perché sono passati 122 giorni dal gol contro il Giuliano. Ti chiedo come li hai vissuti, se il gol è stato un'ossessione, soprattutto nell'ultimo periodo in cui forse ti è mancato di più, perché all'inizio le prestazioni erano di grande livello, poi nell'ultimo mese ti ho visto che il gol ti dava fastidio a non farlo, come l'Avellino per esempio. Come hai vissuto questi 122 giorni e ci racconti la gioia di oggi? Hai detto bene, purtroppo un'ossessione, perché sapete bene che un gol è per gli attaccanti e il pane quotidiano. Però sentivo nelle ultime partite, sia contro l'Avellino, sia oggi che da lì a poco sarebbe arrivato il gol e così è stato, anche perché giocavo con la mente un po' più serena. E si è visto, perché ho fatto anche delle buone prestazioni. Vincenzo, intanto raccontaci l'occasione prima del gol, quella che ti ha salvato Blondett praticamente a colpo sicuro, poi quell'assist di Zunno davvero straordinario che hai spinto in rete e logicamente volevo che ci raccontassi anche l'esultanza, se era qualcosa di studiato o che hai pensato sul momento. Allora, anche al primo tempo sembrava che il gol stava arrivando, ma non arrivava. Anche dopo, quando me l'ha data Nino nel secondo tempo, Ragusa, il portiere l'ha deviata, ho ritirato e è andata fuori. Poi Marco è stato bravissimo lì nell'azione a scartare i due uomini. Siccome so sempre che quando arriva sul fondo la mette dietro, avevo già anticipato il movimento e poi in tappin ho fatto gol. Per quanto riguarda l'esultanza avevo parlato con il fisioterapista Calimeri e ho detto che oggi se segno vado dallo speaker Maira, gli prendo il microfono e faccio io gol gol gol. E quindi così è stato, era una scommessa con il fisioterapista. Stefano Miglioti Vincenzo, hai detto che avete avuto tante occasioni, forse la partita migliore per voi attaccanti questa? Perché ne avete avuto davvero tante occasioni e comunque nelle ultime partite state sempre creando sempre di più. Come ho detto già in conferenza stampa dopo l'Avellino, questo è tutto frutto del lavoro in settimana con il mister. Ma non in queste settimane, nei mesi precedenti. Quando magari stavamo un po' più male a livello fisico, a livello mentale, è perché era tutto il lavoro che stava preparando per poi sbocciare adesso, gennaio, febbraio. E si vede tutto. Billega, Z del Sud. Il mister, intanto complimenti Vincenzo. Grazie. Il mister un po' di settimane fa diceva consapevolezza nei vostri mezzi da acquisire sempre di più. Quella molla che vi è scattata dal derby con il Catania, dalla vittoria in sofferenza di Monterosi d'inizio dicembre, poi è stata tutta una salita strepitosa. Oggi forse la miglior prestazione in assoluto perché si è stati dominanti sin dal primo minuto. Sì, anche perché oggi non ricordo tiri in porto da parte loro clamorosi. Forse un tiro da fuori aria. Ermanno è stato bravo come al solito. Sì, è scattata quella scintilla che prima o poi doveva scattare. Io penso che la partita contro la Casertane è stata poi la scintilla che ha fatto poi sbocciare questo fiore all'occhiello. Ci sono altre domande? Davide Mangiapane. Messina nel pallone, giusto? Ti volevo chiedere, siccome tu hai sempre una questione personale quasi con gli albini, nel senso scherzo ovviamente, e riguardo all'arbitraggio di oggi, perché è stato un arbitraggio un po' particolare, un metro molto libero, nel senso che vi lasciava giocare molto. Poi c'è stata un'azione un po' dubbia su un rigore con Sudite nel primo tempo. Ecco, volevo sapere come l'avete vissuta voi in campo questo tipo di arbitraggio. Ogni tipo di arbitraggio ovviamente ha i suoi pregi e i suoi difetti. Bisogna anche capirli perché deve arbitrare comunque sia la partita e ci sono 22 giocatori, deve stare attenta a tutto ed è giusto così comunque sia rispettare loro e nello stesso tempo capire le loro scelte. Ok, grazie Vincenzo.